Nel settore delle costruzioni in Campania, nei 6 anni di crisi, si è registrato un decremento del 21% di investimenti, con un 34% degli occupati in meno. Più di 30.000 posti di lavoro persi, 54.000 se si considera l'intero indotto. L'imperativo della Fenial Will di Napoli, sindacato di categoria, è quindi quello di guardare al futuro e di rimettere in moto la macchina del settore delle costruzioni nel più breve tempo possibile, poiché non c'è futuro senza lavoro. E' con questo slogan che si è aperto il XVI Congresso Territoriale del Sindacato, che si è svolto presso l'hotel Poseidon di Torre del Greco. Ascoltiamo le parole del segretario generale Andrea Lanzetta. Viviamo da troppo tempo una crisi che ha mandato fuori dal ciclo produttivo migliaia di lavoratori. Siamo a 10.000 solo a Napoli, non più presenti in Cassedile, 30.000 nella regione Campania, 54.000 con l'indotto. Cifre da brividi e quindi dobbiamo sperare che una serie di azioni portate avanti sinergicamente in un modello nuovo di governance possano rimettere in modo lo sviluppo e quindi aprire i cantieri perché con l'edilizia si riesce anche a dare slangio all'economia. Nella sola provincia di Napoli in cinque anni c'è stata una diminuzione degli investimenti in costruzioni del 26% e una riduzione della manodopera del 30% pari a circa 10.000 posti persi solo in Cassedile, a cui è corrisposta una riduzione delle ore lavorative del 38,5% con un rapporto tra ore di cassa integrazione e ore lavorate che, nel 2013, è arrivato al 17,5% di fronte al 4% di cinque anni fa. Numeri che fanno preoccupare e che sono elencati durante il congresso, a cui partecipano anche il segretario regionale della UIL, Anna Rea, e Francesco Tuccillo di Acenna. È una giornata molto importante perché per un appuntamento storico come quello del congresso per la UIL iniziamo da una delle categorie che più soffre, anche se oggi bisognerebbe fare la graduatoria di chi soffre di più. La crisi del settore edile è una crisi senza precedenti, d'altra parte i cantieri si vede sono tutti fermi, bisogna naturalmente ripartire perché dalla ripartenza dell'edilizia, a mio avviso, c'è la rinascita dell'intera economia regionale.